Abbiamo tanti motivi per farci visitare. La nostra storia, la nostra cultura, il clima, la gastronomia. Li puoi apprezzare tutti. Ma la cosa che ti farà ritornare è la riscoperta dei sapori di una volta. La natura, i paesaggi, i sentieri, i tramonti, le orecchiette, i cicatielli, il pane, la bifida, il sol, l'aria, i tratturi. Ti aspettiamo! L'allegria, la cordialità, il cielo blu, il verde, gli odori.